guarda smobby vieni qua fermo guarda se la solo si avvicina e vedi aspetta 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 attimo allora 3 2 aspetta aspetta qual è io ce ne avrò quasi 200 affection ma io guarda dove sono rispettati eh tu prova fai cosi schiacci 3 sei su affection si ah 3 2 1